ed eccoci qui appena finita la partita gubbio juve next gen 1 a 1 o under 20 d che dico se lo voglio con manna testa che esplode per un po c'è bello comunque 1 a 1 purtroppo direi purtroppo anche se c'era lì che siamo armasti in dieci per mucchio le tempo per quella stronzata le casolari porca sicuramente tra i peggiori in campo che cazzo vai a fare quel vallo quel modo porca comunque al gubbio ci ho fatto caso che piana baracca le cartellini gialli le cartellini gialli e rossi sicuramente quello è il pronostico che andrò a vedere come le prossime partite prima della partita ho detto cluster 1 a 0 2 a 0 2 a 1 col cazzo oppure 1 come no comunque un'altra cosa sempre under in casa non ci riesce a scalfire l'under incredibile sta cosa sti dati comunque parlando un po della partita diciamo che secondo me il primo tempo non è stato che anche forse hanno giocato meglio loro secondo tempo meglio noi altri forse abbiamo sferato anche dei hanno avvantaggio qualche volta bene spina viene anche chierico quando è entrato secondo me man of the match ovviamente spina ci metto anche vettorella anche se qualche intervento non è proprio chissà che però questa è la serie c se vince se perde se pareggia contro di tutti quindi comunque sta giove non ha fatto una buona impressione devo dire secondo me non merita destratoria le ultime posizioni perché soprattutto in fase offensiva non è male pecca però in fase difensiva se gli attacchi pecca parecchio ecco perché si trovano in fondo secondo me per quanto riguarda al gubbio diciamo che è un punto guadagnato quando alla fine perché te ritrovi in 10 e dopo è sempre molto difficile rimonta diciamo che è un punto cerchiamo ma però non si riesce a dare un po' di continuità un po' di più di continuità nonostante il punto è buono secondo me e quindi niente che è successo intanto la Lazio 9 cartellini gialli mamma mia per fortuna ha segnato se no mancazza come una bestia anche la Lazio per carità 3 a 1 fanno tanti gradassi che vanno in Champions poi gli schiaffi a destra e a manca comunque passi la parità contro chi cacchio è non me ricordo un attimo che ci guardiamo calendario comodo calendario rubbio andiamo a svelta massimo la mosse c'è Moraanie La rezza fuori caso se mi sbaglio anche perché è già due volte che giochiamo in casa sicuramente fuori casa e adesso attenzione perché ha vinto contro la spalla 3 a 1 questa spalla ma mamma mia la spalla ragazzi proprio rischia di fare il record negativo delle due sessioni secondo me senza sveglia e quindi niente vai c'è un po' cari sta partita sinceramente bene il gubbio nel secondo tempo meglio loro secondo me nel primo c'è da migliorare ancora su sta fase dei cartellini anche che fanno troppi falli secondo me anche inutili e troppe munizioni troppe espulsioni sta cazzo le espulsioni abbiamo un espulsione a partita incredibile porca troia giocatemi espulsione sì e la vincete sicuramente su questo mancazzo porca puttana perché non ammissibile a fare i falli in quella zona del campo che tanto è inutile fa farlo porca puttana comunque appuntamento a dopo per vedere come è andata le partite e per quanto riguarda il gubbio appuntamento a contro l'arezzo e sempre 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 con sovrazza gubbio vabbè oggi pampiccio sono fuori so fritto ma il cervello fritto